Benvenuti a Meteo Weekend. Nella giornata di sabato 13 giugno a Pavia il cielo sarà nuvoloso con piogge deboli durante la mattina, mentre nel pomeriggio si intensificheranno le piogge che cesseranno solo in serata. Il tempo su Voghera sarà nuvoloso con pioggia debole durante l'arco della mattinata, mentre nel pomeriggio oltre alle nuvole potrebbero intensificarsi anche le piogge. Cielo nuvoloso durante la serata ma senza precipitazioni. Sul resto d'Italia precipitazioni a prevalente carattere di rovescio o temporale su tutto il nord, sulle altre zone tempo più soleggiato. Nella mattinata di domenica 14 giugno a Pavia è previsto un cielo nuvoloso con temporali, nel pomeriggio cielo grigio con pioggia moderata. In serata si presenterà un nuovo peggioramento a carattere temporalesco. Situazione pressoché identica anche a Voghera, dove la giornata sarà caratterizzata da temporali e piogge. Sul resto d'Italia tempo instabile e perturbato sul nord, nuvolosa ma più asciutta l'Emilia Romagna. Sole sulle restanti regioni, in particolare su Campania e Puglia. Sabato a Pavia, temperature comprese tra 18 e 26 gradi. A Voghera tra 19 e 26 gradi. Domenica a Pavia la minima sarà di 15 gradi e la massima di 24. Temperature un po' più alte a Voghera, comprese tra i 20 e i 24 gradi. Meteo Weekend torna venerdì prossimo. Ciao!